La Torre del Palasciano è un edificio di interesse storico ed artistico di Napoli, situato sulla collina di Capodimonte. È possibile scoprirlo alla fine di un percorso insolito, inserito quest'anno nell'ambito del maggio dei monumenti, che si arrampica su per le scale del Moieriello fino a raggiungere questo borgo agreste e isolato. L'edificio fu eretto per volontà di Ferdinando Palasciano, illustre medico napoletano e precursore della Croce Rossa, che vi eresse la propria dimora dopo aver acquistato dall'infettivologo Domenico Cotugno un fondo che comprendeva alcune costruzioni, giardini e un frutteto. I lavori di costruzione del palazzo, diretti dall'architetto Antonio Cipolla, furono ultimati nel 1868. L'opera fu realizzata in tufo, riutilizzando in parte alcune strutture preesistenti, con pianta quadrangolare e articolato su due piani, con una vista mozzafiato che domina l'intera città. Lo stile eclettico fonde elementi neogotici e rinascimentali e per l'imponente torre panoramica centrale, l'autore si ispirò a quella del palazzo della Signoria di Firenze. Secondo una leggenda napoletana, Palasciano non avrebbe mai voluto allontanarsi dalla sua magnifica casa e per questo il suo fantasma si affaccerebbe di tanto in tanto dalla torre per continuare ad ammirare il panorama di Napoli. La torre del Palasciano sorge nel territorio del Parco delle Colline di Napoli, attigua all'edificio dell'Osservatorio Astronomico, e risulta facilmente visibile da diverse angolature della città. Oggi ospita un bed and breakfast.